Ben trovati a tutti i telespettatori della Nicosia, questa è l'inizio e flash provinciale dell'8 giugno curate dalla nostra redazione. Nicosia è giunta la sua ventunesima edizione Nicosia in Fiore, l'infiorata organizzata dalla sezione Fidapa di Nicosia, presieduta da Ina Di Figlia, da due anni è diventata un evento distrettuale per il club service. Dallo scorso anno non è una semplice manifestazione con i pannelli infiorati, mona è vera e propria Kermes, con tanti eventi correlati alla manifestazione principale, un evento che di anno in anno diventa un'attrazione turistica per Nicosia. Quest'anno l'allestimento è stato spostato dalla tradizionale salita livolse alla via 4 novembre, il clima non è stato particolarmente clemente, il sabato dedicato all'ospedalamento e l'allestimento dei pannelli infiorati è stato disturbato dalla pioggia. L'allestimento è stato completato in tarda serata e le decine di bozzettisti e di infioratori sono stati chiamati ad un vero tour de force per completare in tempo i lavori. Come ogni anno è stato scelto un tema a cui i partecipanti sono dovuti attenere, per questa edizione è stato scelto il tema di sicelenità tra miti, riti e simboli. E gli artisti hanno mantenuto in pieno le attese rispettando e sorprendendo con il loro lavoro i visitatori di questa infiorata. Tanti gli eventi correlati con palazzi baronali aperti e chiese con all'interno mostre ed esposizioni. Troina, firmata nell'aula magna dell'Istituto Ettore Majorana, la convenzione tra il Comune e l'Ente Nazionale per il Microcredito per la realizzazione del progetto Microcredito. L'operazione di finanza etica attraverso l'accordo stipulato fra i due enti consentirà alle piccole e medie imprese del territorio, nonché ai giovani e agli imprenditori locali, di avere accesso a dei microprestiti agevolati per avviare o ampliare un'attività imprenditoriale. Il Comune, come ha spiegato il Regione Generale Gabriele Caputo, che ha coordinato l'incontro, ha già stanziato dal proprio bilancio un fondo di garanzia di 290.000 euro a supporto degli operatori esercenti locali, che sarà finalizzato al finanziamento di start-up, micro, piccole e medie imprese, ma anche soggetti in età di lavoro con titoli di studi di alta specializzazione e non che non siano in grado di presentare garanzie finanziarie normalmente richieste dalle istituzioni di credito e bancarie. Il fondo di garanzia, che avrà un effetto moltiplicatore nel corso di cinque anni della durata della Convenzione, raggiungerà una quota di circa 1.500.000 euro, che, stando alle previsioni, potrà favorire la nascita e l'ampliamento di 90 imprese e oltre 100 nuovi posti di lavoro. Il ragioniere ha inoltre illustrato che il Comune, sempre a supporto del progetto, ha stanziato ulteriori 60.000 euro e nei prossimi cinque anni serviranno a finanziare un servizio di esistenza e accompagnamento per le imprese che vorranno accedere e utilizzare il microcredito. A questi si aggiungono ulteriori 10.000 euro impegnati dal Consiglio Comunale e dal bilancio plurinale del 2016 per un fondo di microcredito sociale, altra forma di finanziamento prevista oltre quella imprenditoriale, che andrà a supporto delle famiglie in difficoltà. Messina, in data 5 giugno, in occasione della Festa dell'Arma, tenutosi presso il Comando Interregionale, Carabinieri, Kulqualber, sono stati concessi al Capitano Michele Cannizzaro, al luogotenente Vincenzo Squillace, al Maresciallo Massimo Vitale, al Maresciallo Stefano Tripodi, al Maresciallo Capo Giuseppe Magri, al Maresciallo Capo Nicola Parente, al Brigadiere Capo Salvatore Bongiovanni, al Brigadiere Capo Carmelo Spanò, al Vicebricadiere Mario Niffeci, al Vicebricadiere Luigi Ingrosso, all'appuntato scelto Emanuele Columbo, all'appuntato scelto Tommaso Grego e all'appuntato scelto Nazareno De Donno, gli encomi solenni di Comando Interregionale per Operazione Go-Kart. I milari che hanno ricevuto tali attestati di benemerenza hanno fattivamente contribuito a vario titolo alla complessa attività investigativa citata, sviluppata nei confronti di distinti sodalizi criminali responsabili di associazioni a delinquiti di tipo mafioso, omicidio, traffico di sostanze stupevoli, paciente, estorsione ed altri gravi delitti e che ha portato all'esecuzione di 50 provvedimenti restrittivi nei confronti dei sodali. Presenta alle cerimonie il generale di corpo d'armata Riccardo Amato, comandante interregionale carabinieri Kul Qualber. Nicosia continua l'attività del secondo circolo didattico verso l'educazione alla legalità degli alunni. Questa volta due genitori, Franco Onisi e Felice Rizzone, hanno ideato un progetto di coinvolgimento degli alunni delle quinte classi del plesso Filippo Randazzo dal titolo Il ciclismo al servizio della sicurezza stradale, che intende informare e formare il ragazzo sviluppando e approfondendo il concetto di educazione stradale affinché l'alunno sia da solo che in compagnia sappia adottare tutti i comportamenti corretti da tenere nei luoghi pubblici, da pedoni, da ciclisti e da passeggeri. Questo progetto ha coinvolto diversi soggetti, a cominciare dalla scuola Filippo Randazzo attraverso il dirigente Felice Lipari, l'insegnante Anna Maiuzzo ed Angela Vetri, ma anche la Croce Rossa italiana e la Polizia stradale. La giornata finale del progetto si è svolta in piazza Caribaldi a Nicosia. Le due associazioni sportive Rota Libera di Nicosia e la Bici e Natura di Santo Stefano di Camastra hanno sottoposto i tanti alunni partecipanti ad effettuare un percorso all'interno della piazza con segnaletica stradale da rispettare, seguiti dall'istruttore della Federazione Ciclistica Italiana Giuseppe Partenope. Durante l'attesa gli alunni hanno potuto fare educazione motoria con il docente di educazione fisica Lino Buzzone, provare ciclette, spinning bike e bici da corsa sul rullo. Il tutto fornito da coordinatori del progetto. Interessante la lezione tenuta all'interno dell'androne del Palazzo Comunale da due agenti della Polizia stradale sulla sicurezza. Leonforte, grande festa al campetto di calcio a 5 in via dei 100 comuni a Leonforte. I giovani studenti leonfortesi e nissorini seguiti e preparati dalla professoressa Maria Assunta Milotta si sono aggiudicati il titolo di campioni regionali siciliani per il calcio a 5. Gianpaolo Mangione, Giuseppe Giangrego, Salvatore Scordo, Fabio Lavenia, Pietro Di Pasqua, Antonino Lomoro, Matteo Salamone, Kevin Lomonaco, Filippo Di Stefano e Giovanni Panvini si sono inoltre classificati undicesima alla finale nazionale dei giochi sportivi studenteschi a salso maggiore terme. È stata pure organizzata una partita tra i ragazzi campioni regionali di atletica leggera che hanno partecipato alla finale nazionale che si è svolta a Desenzano sul Garda e alcuni professori. I giovani studenti preparati dal professor Mario Cannizzo e dalla professoressa Concetta Salerno si sono confrontati con i professori Daniele Piazza, Angelo Formica, Alessandro Castro e il genitore Signor Lomoro, Loris Castellano, Carmelo Nasello, Salvatore Logioco, Cristina 25, Francesco Ilardo, Rosario Monzu e Salvatore Bonaiuto hanno dimostrato il loro valore sul campo. Tra i numerosi presenti tutti emozionati e visibilmente soddisfatti, il dirigente scolastico professor Michele Lentini, il delegato provinciale della FIGC Paolo Rosso e il delegato Coni Tommaso Scilipoti. E con questo abbiamo concluso il video appuntamento alla prossima edizione di Notizie Flash curate dalla redazione di Telenicosia. Per approfondimenti sulle notizie vi rimandiamo al sito www.telenicosia.it. Per le vostre segnalazioni potete scrivere a redazione chiocciolatelenicosia.it. Un saluto da Sergio Leonardo. Grazie a tutti. Grazie a tutti